Inaugurata un'installazione artistica nel piazzale antistante Liceo Scientifico Torelli, la scultura realizzata in occasione dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario della fondazione dell'istituto è il frutto della selezione tra i partecipanti ad un concorso organizzato dal liceo stesso e progettata e prodotta dagli alunni della professoressa Palladino del liceo artistico a Polloni di Fano. Questa scultura rappresenta il pensiero che prende forma e si modella dalla mente alla realtà, il pensiero che si scolpisce nella sabbia e la sabbia colorata prende forma. Queste sagome ricordano i quattro elementi della natura, ovvero l'azzurro, l'acqua, il rosso, il fuoco, il giallo, la terra e l'aria in quanto il quarto elemento che conferisce il movimento al tutto. Nella semplicità queste forme triangolari si allungano e l'una si contorce verso l'altra. Peculiare è anche la scelta dei colori che sono il rosso squillante, il giallo granulare e l'azzurro opaco con riflessi luccicosi. L'inaugurazione conclude la serie di festeggiamenti ed iniziative per l'anniversario dell'istituto. Rappresenta un simbolo di amicizia e di collaborazione che esiste nei secoli perché questa amicizia cominciò dalla vita stessa del Torelli e del Nolfi. Sappiamo che il Nolfi e la Poloni sono parte di uno stesso polo scolastico, quindi è frutto di una collaborazione tra i dirigenti, i consigli di istituto e i docenti di queste scuole. Oggi celebriamo proprio questa amicizia e questo rapporto di collaborazione.